benvenuti all'appuntamento di oggi con arte del risveglio andiamo a osservare insieme due capolavori di caravaggio oggi li mettiamo a confronto uno di fronte all'altro andiamo osservare la crocifissione di san pietro e la conversione di san paolo facciamo come ha fatto caravaggio gli ammessi cioè che comunicano che dialogano fra di loro si guardano dentro la cappella cerasi sono messi in questa maniera la cappella cerasi è quello scrigno di tesori artistici che si trova nella basilica di santa maria del popolo a roma al numero 12 nella piazza del popolo una piazza esoterica in una città altrettanto esoterica roma ma andiamo a vedere dentro questa cappella cosa mette caravaggio sono delle seconde versioni perché le prime versioni saranno rifiutate dal committente particolarmente esigente il monsignor tiberio cerasi che dà il nome alla cappella chiede questi dipinti per il suo sepolcro per il suo luogo di sepoltura per la sua memoria ai posteri e infatti siamo qui a sviscerare i significati di questo importante personaggio che attenzione era un personaggio che contava a roma era tesoriere papale era un economo della chiesa era un banchiere un magistrato che aveva avuto anche l'incarico di essere il rettore della sapienza di roma l'università e allora un personaggio molto importante facoltoso ed esigente che chiede a caravaggio questo allora la crocifissione di san pietro è quella immagine mistica con la croce rovesciata in cui questo primo papa san pietro simone scimone quindi un ebreo viene crocifisso a testa in giù una cosa macabra rituale e abbiamo osservato esserci un linguaggio mistico segreto che viene fuori dall'utilizzo che caravaggio fa della composizione cioè mette dei personaggi e compone un enigma un pittogramma compone qualcosa che forma un glifo cioè una lettera segreta ed è una lettera dell'alfabeto ebraico l'alef l'alef con tutti i significati che ha le lettere ebraiche hanno infiniti significati esoterici sono lettere magiche sono lettere che girano che fluttuano che stimolano l'intuizione e hanno valore numerico e questo il valore numerico è l'uno l'uno del primo papa il primo papa che san pietro e poi ci sono tutti i significati occulti cioè è l'uomo divinizzato il dio fatto uomo e anche il valore degli animali che hanno il significato della sfinge che hanno che arrivano all'antico egitto quindi abbiamo il toro la vacca abbiamo anche un richiamo a iside l'alef è anche come in alto così in basso e quindi c'è un richiamo ermetico ad ermete trismegisto a tot il dio della parola della magia c'è quindi un qualcosa che viene fuori che parla il linguaggio altissimo del logos e per un magistrato ex rettore della sapienza un uomo così potente un banchiere questo deve essere un bello omaggio raffinato che parla all'invisibile e agli iniziati cioè a chi ha il la chiave di lettura la chiave cabalistica e allora se questa ipotesi fosse vera cosa mette caravaggio nel dipinto che si trova lì di fronte un dipinto strano andiamo a vedere strano perché perché la conversione di san paolo è quell'evento in cui saulo caduto a terra non da cavallo perché nelle sacre scritture non c'è scritto cade a terra e investito dalla luce dalla voce divina viene convertito cioè era un persecutore di cristiani attenzione e diventa invece diventa san paolo quello delle lettere quello il mistico e questa conversione avviene guardate in questa composizione strana abbiamo un cavallo quando è che avviene l'osservazione profonda che va oltre quando di fronte a un dipinto troviamo un elemento che ci inquieta che ci turba qual è qui in questo caso sembra proprio il cavallo addirittura secondo a roma viene chiamata la conversione del cavallo perché dà tutta l'importanza a questo elemento e allora che cosa verrà fuori da questo elemento se di là c'è la lef qui guardate bene qui viene fuori un'altra lettera ebraica attenzione questo è un'anteprima assoluta per arte del risveglio viene fuori la tav guardate la tav e che cosa significa tav tav è il sigillo l'opera di dio è il termine della discesa della caduta e qui c'è il senso del numerismo di caravaggio un senso altissimo che significa che quello che abbiamo di fronte non è quello che sembra ma serviranno altri approfondimenti di arte del risveglio a presto